veramente significativo. Questo da parte mia o di altri non aveva bisogno di essere ulteriormente spiegato o difeso, mi sembrava che fosse sufficientemente chiaro. Se da parte turica ci sono state delle reazioni, noi ne prendiamo atto, ma non abbiamo ritenuto il caso di fare una polemica, di fare dei batti vecchi o delle cose che prendiamo atto, ci sono state delle reazioni. Io ho trovato anche interessante, questo tema della connessione storica mista, dello studio degli archivi storici di cui ho parlato l'altra sera. Credo che sia una tematica su cui, certamente, l'avendo di domenica ha dato un impulso forte per la riflessione e anche, appunto, mi pare, nella perspectiva del pane, del concistoro, cioè, come sapete... Volete dire qualcosa? No, non ho detto niente, niente, ne devo dire nulla. Grazie. Cosa è tutto, è il gioco delle parti? Dei sottosegretariati. Sottosegretariati, chiamali come vuoi, insomma, dei dipartimenti. Grazie.